G7 Salute, la città d'Orica freme tra speranze, difficoltà e aspettative. Via Marconi, già zona rossa, è la Mole Van Vitelliana, centro nevralgico degli eventi dal 9 all'11 ottobre. In questi tre giorni autobus off limits, così come i pescatori che non potranno uscire. E in tutta la zona degli archi i contenitori per la raccolta dei rifiuti saranno delocalizzati per ragioni di sicurezza. Tutto il profilo della viabilità sicuramente stiamo per arrivare alla fine, specie in via Bucconi dove anche questa mattina il caos era grande. E chiedo scusa ai cittadini ma mettere insieme le economie con gli obiettivi spesso non ci consente di ricevere il suggerimento ma fateli la notte perché la notte costa molto di più e i soldi erano contati. Siamo riusciti comunque credo a fare un pezzo importante della viabilità anche nella via di ritorno. Faremo anche la rampa che porta a Vallemiano per cui sicuramente giorno per giorno ci troviamo a passare con la macchina su una viabilità un po' rinnovata. Ma se da un lato l'organizzazione dei servizi pubblici sembra essere predisposta, d'altro canto commercianti e operatori del Rione chiedono maggior chiarezza da parte del Comune. Il disagio c'è perché ancora non è chiaro niente. Io non so come muovermi, se stare aperto o se stare chiusa, non so. Stiamo a vedere, proviamo a stare aperti e poi vedremo. Anche perché qua non si può più parcheggiare. Non si può parcheggiare, non ci sono posti auto, non so l'evolversi come sarà. Disastro perché dai lavori ad adesso io sono costato a tenere chiuso, quindi sia per un problema di traffico che un problema di parcheggi. Questa è zona rossa, quindi non possono nemmeno entrare se non sono residenti. Qui non sappiamo cosa dobbiamo fare qua. Praticamente bloccano tutte le strade, tutte le via vai della gente e questo è un problema. Grazie a tutti.